Il Presidente del Consiglio Comunale di Forio Gianni Mattera, importante riunione di maggioranza che arriva dopo un appuntamento importante per il Comune come la festa di San Vito ma arriva soprattutto dopo le elezioni europee. C'è stato bisogno di fare un po' il punto della situazione all'interno della maggioranza consigliare a Forio? In effetti di sera la riunione di maggioranza, gli oggetti della discussione sono stati ben altri. A margine di quella riunione si è parlato anche, come giusto che sia, di questa operazione fatta dal sindaco del ritiro delle deleghe che non è collegata direttamente al risultato elettorale. bensì a un anno dalle elezioni è anche giusto che ci fermiamo un attimo, facciamo un attimo il punto della situazione e ove c'è la necessità di dover riequilibrare in qualche settore le deleghe penso che sia giusto sempre nell'interesse dell'azione politica e amministrativa della maggioranza. Non ci sono speranze per chi pensava, ecco, in un vacillare della maggioranza a Forio possono dormire sonni tranquilli? Ma guarda, io dico sempre finquanto si rimane nell'orbita politica è giusto che chi debba criticare, chi debba fare pure la polemica, purché sia costruttiva, è giusto e ci sta. Il problema è quando poi si esce fuori da quello che è l'orbita politica con l'azione delle denunce, denunce, attenzione, che non vanno a colpire solo ed esclusivamente già di per sé la denuncia, secondo me, è un'azione politica sbagliata quando poi queste denunce vanno a colpire non solo il diretto interessato ma anche coloro che sono intorno all'amministratore parlo diciamo a livello familiare e allora questa diventa una cosa un pochettino antipatica ci sono persone che purtroppo in questo paese hanno questo modo di agire, questo modo di fare va bene, se loro pensano però di dover indebolire la maggioranza gli penso che abbiamo le spalle abbastanza larghe e non abbiamo niente da nascondere scheletri nell'armadio, non ce ne stanno se poi eventualmente qualcuno ha commesso qualche errore ne pagherà le conseguenze però ripeto, non penso sia questo il modo di fare politica o cercare di fare interesse del comune di Forio